Oppure è la speculazione su un uomo debole, in difficoltà, una forma di guardonismo, come un po' la accredita Salvini? Beh, è un po' tutte e due, è una questione politica perché è chiaro che Morisi era vicino a Salvini. Dopodiché diventa immediatamente, secondo me, una vicenda squallida, perché è l'ennesima dimostrazione che in Italia il garantismo, perché parliamo di un'inchiesta, non esiste. Siamo tutti garantisti a parole. Poi appena c'è uno spezzone, come in questo caso, che la Procura di Verona ha definito una vicenda banale e circoscritta, al momento naturalmente, non una grande inchiesta, si scatena il finimondo e diventa il fatto centrale della politica italiana. Allora, io non credo che dieci anni fa o cinque anni fa non sarebbe successo. La verità è che in Italia queste cose succedono da trent'anni, hanno colpito prevalentemente la destra, ma anche la sinistra, hanno colpito un po' tutti e ogni volta si dice, sì, è così, ma naturalmente dobbiamo far vedere il verbale, e poi c'è il pezzo dell'inchiesta. In questo caso c'è poco o nulla, perché c'è appunto queste testimonianze che abbiamo dato e allora si va direttamente sulla bestia e sul racconto, diciamo così, della fase aggressiva, feroce, cinica, del salvinismo, mischiando la politica o parte della politica che è stata fatta in questi anni con questo pezzettino di indagini e di inchieste. Ma tu pensi... Secondo me questa è una forma alla fine di barbarie che continuiamo a portarci dietro e adesso va di moda l'ipocrisia. Ho apprezzato Lucarelli perché non è stata ipocrita. Cioè l'ipocrisia è noi non facciamo schifo come fai tu, non ti diremo che tu sei uno, due, tre, però te lo stiamo dicendo, dicendoti che non siamo come te. Il nazionale ghismo, domanda più politica, il nazionale ghismo di Salvini sta morendo? Cioè verrà sostituito da un leghismo draghiano, diciamo, pragmatico, europeista che ha il volto di Giorgetti? Cioè stiamo assistendo alla caduta del leader Salvini o no? Io credo di no. Credo che sia in corso una fase, come siamo in una fase complicata, dove ci sono spinte e oscillazioni molto forti e dove naturalmente ci sono due linee che si scontrano e su questo non c'è il minimo dubbio. Potrebbe però essere anche un'evoluzione, perché comunque c'è stata un'evoluzione necessaria ovviamente negli ultimi diciamo anni e mezzo, due anni, di quello che è, perché è cambiata l'Europa, perché è cambiato il mondo, perché se tu attacchi l'Europa e vuoi uscire dall'euro e poi scopri che l'Europa ti dà i soldi, forse devi cominciare a ripensare la tua politica. Ma è Salvini l'uomo giusto per poter fare questo ripensamento? Secondo me lui in parte ha secondato questa spinta, in parte risucchiato, come dire, dalla linea precedente. Vedremo come evolverà. Allora, fermati qua. Non è detto che si vada a una spaccatura, può darsi che si vada a un'evoluzione, però naturalmente queste sono cose dinamiche e politiche che possono evolvere in vero modo. Però Corrado, scusami, velocissima. Velocissima perché vi devo fare...